ciao ragazzi eccoci dentro qua con una nuova puntata di poca mmo spero che si senta un po meglio l'audio ho alzato le impostazioni e come avevamo detto l'altra volta siamo ritornati sulla città precedente e per prendere la bicicletta perché avevamo il coupon regalato da quel signore andiamo un po se cosa ci dice oh that's questo è a bike voucher ok here you go joax full exchanged the bike voucher for a bicycle thank you come back again sometimes ok ci ha dato la bici andiamo un po sulla bag ecco qua la bici bicycle bicycle ok ss ticket elix fossil ecco uno di voi mi ha chiesto se mi avevano dato il fossil si eccolo qua elix la bicicletta la trasportiamo su f3 e così possiamo usarla vediamo un po eh quanto andiamo veloci ok siamo delle sketch un po' però possiamo correre dove ci pare però vi taglio il pezzo con in cui torno indietro verso casa ragazzi perché sennò mi dovete esorbire tutto il tragetto a dopo ok ragazzi siamo tornati nella città verulio verulio no com'era vermilion ok però non possiamo sfidare il capo palestra perché non abbiamo taglio quindi ci torneremo dobbiamo andare da questa parte qui c'è la nave se vi ricordate guardate quanto andiamo veloci e possiamo anche correre con la x ovviamente tenendo la premonda mentre corriamo a piedi concluiamo la bici che mi sta dando ah ok avevamo da prendere una cosa anche qua oh quello ha aerodactyl ragazzi vediamo un po' qui che c'è awakening ok questi tutti questi allenatori non so se sfidarli ora o offline ok x defend magari li sfido offline e qui andiamo un attimo avanti qui cosa c'è strano questo masso così oh escape prop quindi fun e di fuga vediamo un po' qui che cosa ci dicono ok ok lavandonia ok forse ci dice che per arrivarci dobbiamo usare il tunnel ehi ti ricordi di me sono ok del professor rock e il code è scoppiato il data con 30 species ok 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 allora vediamo un po' non lo so se ce l'ho 30 non credo uh oh you have cooked only 18 no ne ho fatturate solo 18 ragazzi quindi non possiamo avere il premio da questo il regalo ok questo vuole scambiare nidorino con nidorina ma io non ce l'ho quindi andiamo via ciao amico andiamo un po' avanti andiamo un po' chi c'è ad aspettarci ah ma qui c'è snorlax ho ho c'è snorlax ragazzi ok ok quindi ho capito bene non dobbiamo andare qui ma dobbiamo andare dall'altra parte sul tunnel andiamo un po' salve signore ok ci sono i diglett lungo il tunnel quindi possiamo catturarli andiamo un po' qui non ci sono allenatori da sfidare e i diglett hanno paura ok si sono presentati eccolo qua un diglett ecco qua è perso il diglett al 15 buono sfidiamolo facciamo rock throw ok la nostra precisione è calata ok abbiamo fallito l'attacco e proviamo ho spostato ragazzi geodood per farlo un po' salire di livello infatti ho fatto salire sia geodood un po' e anche nidorino mi sembra no o comunque qualcuno ho fatto salire ok attacchiamo diglett pesantemente e voglio distruggerlo muori perfetto andiamo avanti andiamo avanti ok un altro diglett sicuramente eccolo qui vediamo un po' salire all'alto 17 potremmo catturarlo magari al 17 vediamo un po' oh magnitudo 9 su bellesprout si ma andiamo subito cermilio ne lo uccidiamo sicuramente proviamo un po' magari a fare scratch soltanto senza metal claw uh guardate un po' si è salvato per un pelo per fortuna perchè ora lo catturiamo se ci riusciamo facciamo un peg andiamo su pokeball e pokeball ne abbiamo 13 ne abbiamo comprato l'altra volta andiamo un po' dai 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 ragazzi che catturiamo anche diglett e andiamo a 19 catture 2 3 wow si ragazzi abbiamo catturato anche diglett yeah 19 abbiamo fatto 19 pokemon ragazzi abbiamo nel pokédex ok è ground di tipo ok e andiamo avanti sperando che non incontriamo tantissimi perchè ok un altro ancora 18 ok noi abbiamo catturato appena uno da 19 e 17 e ci ha fregato un livello un livello oh il nicole 5 è super efficace ci sta distruggendo tutti i pokemon ai 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 andiamo a charmeleon facciamo metaflow forza forza andiamo a ucciderlo yeah si ci abbiamo fatto ok charmeleon ha guadagnato 208 esperienza livello 32 andiamo avanti questa galleria è bella lunga eh ragazzi oh l'ultimo diglett andiamo avanti 16 questa è più debole del nostro facciamo sing song sang cantiamo cantiamo la canzoncina ok la nostra precisione ecco abbiamo fallito send attack di nuovo la precisione è scalata facciamo si niente mi hai rotto ora morirai con charmeleon vai vai ok usa crescita noi invece usiamo metaflow e attacchiamo pesantemente forza perfetto yeah è morto ok andiamo avanti siamo usciti questo che dice ok ok no ok dice nelle gallerie buie usare flash andiamo un po' qui che cos'è find pokemon just has no energy left to battle i cani steal use more like at ok per fuggire dalle dalle battaglie ehi non ce l'ho quindi non posso ragazzo mi spiace c'è non ho capito se vuole mister mai ma non vuole altro io non ce l'ho non ce l'ho taglio ma non è che devo prenderlo da qualche altra parte vediamo un po' qui invece cosa c'è no è tutto bloccato ragazzi quindi io dove passo ma taglio chi me lo dà quindi oh che casino dobbiamo tornare indietro ragazzi ci tornerò da solo perché sennò è un casino ci vediamo fra poco ragazzi c'è ductrio al 31 ragazzi incredibile ho beccato ductrio al 31 incredibile non so manco se ce la faremo ora sinceramente ci ha distrutto con un colpo ho paura di perdere sinceramente ma se lo becchiamo ragazzi se lo riusciamo a catturare sarebbe un bel colpo no aia 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 facciamo un po' metal flow ragazzi no sand the tomb no 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 stiamo per perdere oh facciamo metal flow aiaiaia non ci facciamo niente facciamo un po' pozione ok mad slep ohioioioi no no ci sta uccidendo no no siamo morti oh abbiamo avuto la possibilità di catturare 2x3 ragazzi ci ha ucciso ci ha ucciso comunque dobbiamo trovare chi ci da quella benedetta quella benedetta o taglio che non so chi ce lo da non ne ho la più pallida idea quindi diamo un po' i want to exchange mail ok ok qui invece che ci dice ok chi ci da taglio non si sa io però ora voglio catturare quel ductrio lo voglio assolutamente ragazzi quindi noi proveremo a catturarlo lo stesso finchè non lo troviamo ci tornerò nella caverna andiamo un po' eh anzi aspettate cambiamo un po' ok cermino per primo ora magari ragazzi non lo incontriamo più altri in tomb altri in tomb ci farebbe comodissimo ragazzi altri in tomb ductrio and ilet ok ci vediamo se lo incontro ragazzi ecco di nuovo ductrio però al 29 proviamo a fare subito meta claw oddio lui fa subito un mudslap che ci dà abbastanza energia facciamo meta claw vai vai attacchiamo attriggato critical hit perfetto facciamo bag facciamo pokeball dai quasi ce la facciamo forza 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 uno due tre si ragazzi abbiamo catturato ductrio al 29 perfetto il 29 ci farà un comodissimo e lo andremo a prendere presto comunque dobbiamo tornare a uscire da questa caverna maledetta e ci vediamo fra poco ok ragazzi siamo uscire da questa caverna e non siamo stati soltanto sulla barca quindi vorrei vedere la barca cosa dice almeno questo ah welcome to ssn welcome to the ssn it's me do you have a ticket ok vi faccio vedere il ticket great welcome to ssn ah ok ci possiamo andare quindi vediamo un po' allora cosa succede the passenger are restless from this long voyage you might challenge the bite more ok quindi possiamo andare qui ci sono le le stanze questo è un bambino con cui ci stiamo a parlare vediamo un po' buongiorno e me le qualità o this ship quindi ok 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 posso dormire qui? non posso cosa dice la bambina? wigglypuff questo qui non ci sfida ok io volevo dormire per curare Charmeleon soltanto che qui cosa ci offre TM31 ok io ho collezionato questi pokemon e ora ce li fa anche vedere ragazzi vediamo un po' se riusciamo a batterli speriamo che si pj al 18 ok ho sbagliato attacco ho fatto gruel crescita ora invece faccio ember usa di nuovo attacco veloce pj lui facciamo ember e lo uccidiamo e lo uccidiamo se Charmeleon ha guadagnato 211 esperienza nidoran facciamo ember di nuovo ok è morto anche nidoran e andiamo avanti perfetto 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 ok ragazzi siamo sulla SSAN e penso che ci stiamo per salutare perchè si è allungata la puntata e ci vediamo alla prossima ciao 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 Grazie.